Cominciamo letteralmente dal ABC, ossia dall'alfabeto. L'alfabeto latino consiste di 23 littere, ovvero lettere. Le vedete sullo schermo. Vi siete accorti di cosa manca rispetto all'alfabeto italiano? Proprio così, la U, che veniva scritta dai romani come V. Nei testi latini, infatti, non è marcata la differenza tra il suono vocalico U di ultimo e il suono consonantico V di Uomo.